su walkers, allora Aminatu ma chi è questa persona, scusate? ha un'identità a parte l'arte di Sam McKinnon un salutone ciao non so, cioè veramente non so niente della roller, non me ne frega un cazzo della carta che è tipo solo giocabile in commander eh ma non ce ne frega assolutamente nulla qualcuno dice mai Aminatu figata, guardo tutto in generale quindi questo non mi interessa Angrat, l'avevo detto l'avevo detto ragazzi, mamma mia top assoluto imbattibile meraviglioso, stupendo carte scarse in culo, non è vero vabbè dai nel metà di Xanon un po' si è giocato però io lo amo, è veramente troppo bello, il minotauro Rakdos incazzato mamma mia, cioè per me Angrat è il mio Plinsolk in assoluto preferito di sempre, si lo carico anche sul tube Angrat è Angrat per me è un padre Ajani non vedo, è Ajani Ajani questo, si lo riconosco dalla spada Ajani per me è un solido A Ajani è un solido A è molto bello come stile mi piace l'evoluzione da selvaggio incazzato a a personaggio paladino della giustizia fondamentalmente mi piace il fatto sia stato effettivamente il primo Plinswalker in assoluto della prima sezione di Plinswalker quindi li vogliamo bene li vogliamo bene, si cioè è bello Ajani è meraviglioso e è sempre rimasto costante, si la signorina dei lupi è un C ce ne frega veramente poco si Ajani è proprio positivo la signorina dei lupi ce ne frega veramente un cazzo niente io penso nessuno pensando Plinswalker il primo che ti viene in mente è Gina la signorina dei lupi tanto che in questo momento te lo giuro nonostante si giochi nelle side di Werewolf non mi ricordo nemmeno come si chiama in questo momento insipida inutile Arlin Arlin insipida inutile zero spessore Arlin vedremo in futuro magari questo è Ashok questo è Ashok Ashok è un S Ashok è mamma mia top assoluto Ashok è stupendo stupendo Ashok è stupendo design unico meraviglioso legato alla lore in maniera subdola veramente stile carisma mille carisma mille veramente le carte non sono cioè le carte rompono il cazzo di Ashok però in generale a differenza non guardare il run non mi fai un cazzo della forza delle carte sto guardando cioè per me Ashok è guarda guarda i miei S Angrat e Ashok voglio dire e poi comunque Ashok il planeswalker era 5 ha visto molto gioco e il planeswalker era 3 lo vede tuttora quindi l'Ashok non comune vede ancora molto gioco in formati quindi però è proprio bello il personaggio cioè il personaggio di Ashok è importantissimo nella lore è stupendo è bellissimo Basri questo è Basri vero? vai a cacare sei scarso e brutto Basri ma di cosa sa ditemi di cosa sa Basri no sappiamo chi è ma Basri è proprio inutile minchia è il classico personaggio secondario di un telefilm brutto non so assolutamente niente no non è chi è questa persona sgusade perché comunque ho avuto a che fare nella mia vita con Basri diciamo questo è Basri è proprio scarso e brutto Kaya 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 è un personaggio molto bello è un personaggio molto bello molto importante per la lore ha delle ottime carte Kaya 3 rimane la mia preferita ha un design abbastanza neutro abbastanza spoglio cioè diciamo non è un'immagine che ti rimane in mente come il carisma cioè potevano fargli magari un outfit un po' più caratteristico però cioè Kaya Kaya te la ricordi Kaya è incazzata è forte molto forte è importante nella lore di World of the Spark e in quella di Kaldame Kaya è un A è un A solido Kalyx B Kalyx B non è un A ma Kalyx è un Pledge Walker che rimane impresso ha un design assolutamente particolarissimo il discorso che ha a che fare con gli incantesimi è stupendo la carta non è fortissima ma ha il suo perché Kalyx è figo però Kalyx è un personaggio figo non è un A ma è un B solido secondo me Tivarchel ma chi è questa persona scusate ma chi cazzo è Tivar ciao c'ho i pettorali sono un elfo arrivederci chi se ne frega di Tivar cioè chi cazzo se ne frega no è peggio Basri ti dico Basri almeno in qualche mazzo almeno la carta ha visto gioco cioè Tivar chi cazzo se ne frega penso che è totalmente dimenticabile prendi e vattene cioè prendi e vattene dai chi se ne frega c'ha i pettorali basta c'è chiunque mangerebbe del sushi su quel petto ma per il resto ma nemmeno con il rework degli elfi è giocabile vabbè Chandra dai Chandra Chandra S Chandra è mamma mia top assoluto e come come si fa a non apprezzare Chandra come fai a dire niente a dire qualcosa su Chandra Chandra ustiona ma anche no Chandra non è un pledgewalker che mi ispira assolutamente niente di sessuale è proprio bello cioè li vuoi bene Chandra è l'amicona Chandra Chandra c'è sciabè o Chandra c'è sciabè Chandra è stupenda Chandra è stupenda Duck Faden B B C no B B Duck Faden B B perché? perché le carte sono molto forti cioè le carte di Duck Faden sono sbroccate meravigliose ma il personaggio mi fa cacare quindi la compensazione tra planeswalker sbroccato anche in vintage ma ma pessimo in tutto more malissimo anche in War of the Spark e nemmeno gli hanno dato il planeswalker in War of the Spark nonostante ci sia ma è un B è B Duck con Backblade B B Duck con B perché è bello oggettivamente bellissimo è storico per la carta Legends ma quando l'hanno reso planeswalker in Modern Horizon ha avuto veramente molto poco impatto risonanza in generale non ce n'è fregato un cazzo si può dire non ce n'è fregato un cazzo veramente bello come personaggio ma era più bello se rimaneva il personaggio storico e quando l'hanno riportato ha perso metà del carisma nonostante l'artwork sia stupenda questo non capisco chi è chi è aspetta è Daretti è Daretti Daretti è un A non rinascerevo quest'artwork Daretti è un A Daretti è stupendo Daretti è stupendo in tutto altro incigno in diretta anche il nuovo liquido per assaggiarlo questo Red Bucko della Dreamlock Daretti Daretti strabello Daretti con la sede rotelle pimpata master artefatto oso Daretti Daretti è bello nonostante io non giochi commander lo apprezzo veramente tanto Daretti è stupendo questo chi cazzo è perché non riconosco le artwork maledizione chi è questo ora non lo riconosco ah è Domri Domri sei scarso e brutto cioè vero qualche carta di Domri è stata giocata ma Domri è tutto ciò che non era Vorborigmos cioè nel senso io sono un fan di Grul io sono un fan di Grul e come fan di Grul essere rappresentato da Domri mi vergogno cioè veramente essere rappresentato da Domri mi vergogno mi vergogno Dovin Dovin è un A vi dico Dovin per me è un A è un planswork che mi è sempre piaciuto moltissimo in tutto lore carattere carisma stile design carte un po' meno c'era un c'era un Dovin figo durato molto poco però proprio tolte le carte però è figo Dovin è veramente figo come personaggio Dovin non mi piace assai Teferi te le devi andare a fare in culo Teferi va a fanculo va bene sono troppe forti le carte per metterlo in scarso e brutto ti metto in C ti metto in C perché ti salva la potenza delle carte ma Teferi devi andare a fare in culo fai cagare cioè Teferi studentello prodigio ribelle sei antipatico mi stai sul cazzo plasmi il tempo quindi sei ancora più antipatico te le devi andare a fare in culo il fatto che mi somigli non lo salva il fatto che mi somigli non lo salva mi sta troppo sui coglioni Teferi Teferi mi sta troppo sul cazzo vaffanculo Garruk dov'è il vabbè il Garruk è tier zero Garruk dai ragazzi ma io fatico a non mettere in tier zero tutti i Prince Walker originali tranne uno Garruk è un fratello gigante Garruk non puoi non volerli bene e subito dopo c'è un altro S ve lo dico no no e vabbè sono strabelli allora allora ok c'è la T Rangrat post ok c'è la T Rangrat e poi ci sono i top assoluto a posto così è scelto Elspeth è un altro top assoluto peraltro ora torna con un artwork che effettivamente un po' mi umetta la punta del glande ho scoperto di avere un fetish un kink per lo stile art deco Silvia segna si sa mai cosplayino ho scoperto di avere questo fetish per lo stile art deco e e l'artwork nuova di Elspeth mi fa impasire però in generale Elspeth come personaggio dai è waifu Elspeth è waifu Elspeth è waifu cosa gli si può dire personaggio stupendo in tutte tutte le volte che si è vista sempre importantissima sempre al top non è inutilmente buona come un personaggio che vedremo dopo non è troppo buona troppo paladina della giustizia è proprio corretta personaggio corretto questo chi gazzo è? questo chi gazzo è? Estrid ma chi è questa persona scusate? chi è? chi è questa persona scusate? ditemelo voi perché non so nulla ve lo giuro dimenticata se c'è stato ho dimenticato fa roba con le aure sì ma a livello di lore è importante me ne frega è uno schifo chi è? questa persona scusate non la conosco andiamo avanti freialise ma chi è? cioè ma chi se ne frega? chi è freialise? ma chi cazzo se ne frega di freialise? la tizia degli elfi sì brava ma chi cazzo se ne frega? ma chi se ne frega? ma non ce ne frega niente di freialise vaffanculo andiamo avanti cioè c'hai i piedini ok c'hai i piedini basta gay a drone sì lo so chi è freialise ma ce ne frega un cazzo di niente? no vaffanculo ma che cazzo è? dimmi tu a pensual che preferiti ti viene in mente freialise ma chi se ne frega? dai gay a drone ma chi è? lo so è importante ma chi se ne frega? non ce ne frega niente dai va bene c c è super storica ma c gay a drone penso che era disutile boh ecco come boh vabbè anche lei veramente perché esiste? perché esiste? non ha il minimo senso di esistere gay a drone è il motivo per cui esiste la Black Blade sì ma chi se ne frega? di a drone gredade dai dai vaffanculo Gideon sei scarso e brutto lui dicevo personaggio inutilmente troppo buono mi gira il cazzo che sarà il protagonista della novel ma minchia cioè proprio veramente quanto sei quanto sei pomposo e madonna chad inutilmente chad sei l'ultimo degli scarsi e brutti Gideon non lo sopporto Gideon non lo sopporto Gris chi è questa persona scusate Gris Gris vabbè è figo perché c'è il planswalker che lo prendi con la collected company come carta è forte ma chi cazzo se ne frega è fatto brava vabbè e cioè Gris è veramente un niente atomico ma guarda sei scarsa e brutta anche te certo obiettive sei scarsa e brutta e il sogno di chiunque era un planswalker che avesse a che fare con i dinosauri in maniera giusta e invece ogni sua carta fa schifo alla merda atomica vergognati ma perché anche te perché esisti purtroppo so chi sei e sei scarsa è brutta Jai Jai è una Jai è una Jai è anche lei parte dei planswalker originali tra l'altro uno dei pochi personaggi che è effettivamente invecchiato è uno dei pochi personaggi scintillati che effettivamente è invecchiato quindi e è molto più carismatica e figa da da age che che da giovane molto più molto più carismatica adesso i Royal Science ci sarebbe una divisione secondo me da fare perché se devo prendere tizio capelloso bianco yeah è scarso e brutto ma Rowan è mamma mia top assoluto e quindi è B la via di mezzo è B cioè Rowan per favore ti chiedo per favore di siederti sul mio viso lui cioè ciao ti sei voluto bene voglio dire i Royal Science andavano divisi i Royal Science andavano divisi quindi la via di mezzo è B Davriel è stupendo Davriel è stupendo Davriel è una totale Davriel è veramente meraviglioso cioè cosa si può dire di Davriel scusate aiuto crashato Twitch aiuto ho crashato Twitch ciao 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 Ok Sono tornato Tornati? Ci siamo? È crashato Twitch Ho visto zero spettatori E mi si è chiusa la sessione Nonostante non avessi staccato BS Proprio colpo di Twitch è stato questo Colpo di Teferi Si è offeso Palesi è offeso Teferi Allora dicevo Non so dove eravate rimasti Royal Science andava diviso Dicevo Rowan stupenda Meravigliosa Eri rimasti dinosauri Ok Rowan stupenda Meravigliosa Rowan si adizia sul mio viso Fai di me quel che vuoi Tizio fratello di Rowan Non ce ne frega assolutamente Quindi se Rowan è top assoluto E Tizio è scarso e brutto La metto a metà in B Perché Rowan è waifu totale Rowan è waifu totale Chi è questa persona? Scusate È Jessica Ah Allora è C dai Troppo importante per la storia vecchia Però dai Come Planeswalker non gli ha fregato un cazzo a nessuno Tizio bello col cane C Ma chi è? Dai Cioè chi se ne frega È un c È più bello il cane di lui Più bello Mow Anche perché mi ricordo come si chiama Mow No il cane lo metterei in c No ragazzi è esploso Twitch Cioè c'è stato un colpo di Twitch È Twitch che si è Arruttato per un attimo Ed è esploso Ah beh se si fa la media Allora è C Sì perché Mow È mamma mia top assoluto Lui è scarso e brutto Allora è C No Rowan Rowan non merita di essere accomunato al suo fratello Rowan merita di essere quasi In T e Rowan Non me la sento di metterlo in B Rowan tira troppo su suo fratello J7 Ah aspettate Allora è C Ok andiamo avanti Kaito Kaito mi piace un botto Kaito mi piace veramente un botto Non da top ma da Oh grazie Anche un caffè per favore Ah beh nel dubbio Lasciata a schermo Ci ha lasciati E ce ne rimarrà così Provo a rifresciarla Ma non credo Di solito non parto Dicevo Kaito è nuovo Fresco Ma mi piace veramente un botto Oltre ad essere Polesemente mio fratello Kaito è veramente stupendo Secondo me Per tutto Storia Design La carta in sé Kaito è strabello Karn Karn è un A Non è un top assoluto Perché non è che mi dà Tutti sti feels Però è stupendo Karn è meraviglioso Ci poco da dire È uno dei personaggi in generale Non solo di Planeswalker È uno dei personaggi Più importanti Della storia di Magic Non è un my favorite Ma non puoi non metterlo Almeno in A Cioè non lo metto in S Perché Quegli altri proprio piacciono a me Gli S sono i miei preferiti Personali Karn è stupendo No Davriel è stupendo È benaviglioso Come tutto Come personaggio Cioè proprio stupendo Mi piace un bot Kasmina È un B Design bello bello Spessore abbastanza Di una suola da scarpe Però è proprio bella Kasmina È proprio figa Mi piace Mi piace Un bot Ah vabbè La signora delle cosce È un A La waifu entai È un A Totale Dai È stupendo È tanta roba È un personaggio Chi oscia Sì esatto Chi ora è Chi ora è chi ora Ho da dire Veramente Tanta roba Chi ora Chi ora è amata Da tutti Lui è il tizio Ferroso Chi è questa persona Scusate Nel senso Ok Lor di Mirro Din È Kot Sì lo so Kot Kot e Mangiat Ce ne frega Qualcosa Qualcuno si ricorda Di Kot Però è veramente Importanti Sarebbe importante Sì però No B No Non me ne frega un cazzo A me di Kot Io non Non so un cazzo Di Kot Quindi vuol dire che Beh potrebbe avere Poi magari C'avrà un altro Momento di Yea Vabbè Liliana Veramente Cioè È nella tier list Liliana Non è Angrat Perché non è Angrat Però È la prima Dei top assoluto Professoressa Onix Liliana Liliana È Uber Alice Black Panther Ghi è Scusate A livello Di Di lore Cioè Ok È un Prince Walker Commander E ha fatto Cioè Esiste Black Panther Non boh Ok È uno dei pensori Più importanti Alla storia di Magic Ah ok Sì però È dimenticato da Cristo In questo momento Stai soffrendo Lo so Però De Me lo son perso Il momento in cui Era importante Probabilmente Oh se Ha menato Fire Ah è vero Ok Fermi Non collegavo L'aspetto Alle cose Sapevo Ok È almeno Un B No Ora ho ricordato Il nome E cosa E cosa faceva Non ricordavo Che fosse Erpanterone Ok No 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 Wing Race Sì Sì È un sì Luca Vaffanculo Sei scarso e brutto Ci stai Sui coglioni A chiunque Dai A chi è che piace Luca A qualcuno piace Luca Frega qualcosa di È presto È presto È presto Forse per Luca Dai Per ora Per ora È più Pisa Che Luca Per ora È scarso e brutto Poi vedremo Ma dai Poi è OP È troppo OP Anche nella storia Cioè Se la tira Perché OP Dai Mu yangling Figa da morire È un B Non è top assoluto Cioè Allora se si guarda solo l'aspetto waifu è top assoluto Però Spessore nulla Carte me Quindi Solo per l'aspetto Ti direi Sì Duorpi Ma dai Infatti non è scarso e brutto È B È B Nairi sei scarso e brutta È antipatica Oltretutto Cioè Nairi Sei una Villain Orrenda Non sai fare neanche la villain Cioè Nairi è Il mestruo Fatto Plainswalker Questo non sto capendo chi è È Nairzett Ah cazzo Nairzett Ah No Nairzett È stupenda Nairzett è un personaggio meraviglioso Nairzett mi piace un botto Svariate rappresentazioni Oltretutto sempre con un'identità ben decisa Figa No Nairzett è tanta roba Bolas ragazzi Bolas Top villain Top villain Assoluto Bolas Bolas è intoccabile Bolas non si può dire niente Bolas è stupendo Nico Che cazzo sei Ma Nico A parte essere il token rappresentativo Cosa sei Nella Cioè Perché Nico Inutile L'inutinico Ci sono dei video su youtube Che se cerchi la lore di magic Ti fa un escursus Di Generale Nissa Mi sta un po' sul cazzo B Bel personaggio Ma un po' mi sta su Due coglioni Un po' Nissa 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 Un po' Mè Forte come carta Ci mancherebbe Shakes the world Ha shakato il world Però Per il resto Un po' Mè Hob Anche lui è un B Non arriva un A Le Però effettivamente A parte Ora Cioè Anche Ora In Nuka Penna È il cattivone Vestito bene Però dai Come personaggio Ne è che ci abbia Tutto sto spessore Magari Cioè In Nuka Penna Ce l'ha Ora Ma non è che Cioè Il passato È molto Mè Molto Mè Oko Va Oko Vaco Jace Oko Tier Jace Questa Chi è Chi è Questa persona Scusate È Ral Ah Ral C Non mi è mai Piaciuto Il personaggio Ral Non è scarso E brutto Però Non è Abbastanza Da salire Più di C Ral Primo Planeswalker Manifestatamente Gay Eh ma Chi se ne frega Della sessualità Cioè Non è un bel personaggio Non mi sa di niente Saili Uguale C Saili È Neutrissima Proprio Inutilia Inutilia Scarzelli Uguale Samut Anche Samut È C Non è Scarsa e brutta Perché comunque Per essere Scarsa e brutta Deve essere Scarsa e brutto Però è Il minimo Del decente È il minimo Della sufficienza Proprio il C Ma chi se ne frega Della carta Forte Cioè Saili Chi se ne frega Samut Chi se ne frega Serra Top assoluto Serra Serra Non sa Li vuoi dire Serra Ragazzi Serra È Meravigliosa Serra È Serra A parte Shakira Serra È Top personaggio Top carta Top artwork Top lei Top tutto Questo chi è? Sorin Sorin non mi è mai Piaciuto più di tanto Per me è un B Non mi è mai Piaciuto troppo Come personaggio Sorin Importante Ma Non mi è mai Piaciuto Mi sta Molto neutro Come Come Filz Diciamo Tamio è un top Assoluto Per me Tamio è un personaggio Meraviglioso Ora che è completata Ancora di più E in generale È un personaggio Stupendo In tutto Tamio è Top Per me Sorin Ma a parte Lo spessore Di importanza Di storia Sorin Mi sta Mi sta Medio Mi sta Veramente Medio Questa che Cazzo è? Chi è questa persona Scusate? Chi è? Chi è sta roba? Ah Tevesh Zat Ok Super vecchio Ma Dimenticato Facilmente Dimenticato Dimenticabile Ma anche Ezio Degli Scudi Cioè Peraltro Un saluto Alla Wizards È la carta Che io ho spoilerato Di Jumpstart Però Cioè Ezio Degli Scudi Meh Ezzeret È un B Mi sta Un po' Tanto sul Cazzo Però Oggettivamente È un bel Personaggio Però Mi sta Molto sul Cazzo E il fatto Mi sia Sul Cazzo Probabilmente È perché È un bel Personaggio Quindi Forse Mi ritirebbe L'A Però Secondo Me È un B Sì È un B Sarkhan È top Assoluto Sarkhan Mi garba Un bot Sarkhan È Sarkhan È È stupendo Invasatissimo Golidraghi Stiavo Di Bolas Fida È strabello No Non è a livello Angrat Ci marcherebbe No Ordinando Anche i top Assoluti Facciamo Per ora Così Ok Però Sarkhan È un top Assoluto Wanderer È dopo Liliana Per me Mi dispiace Wanderer È un S È un TRS Che ora È Emperor Wanderer L'abbiamo Rivoluta Tutti È tornata Più Bella E forte Che mai Con una Lore Incredibile Un'importanza Nella storia È proprio Meravigliosa Meravigliosa Wanderer Poco da dire E Tibalt Fa talmente Cacare Con le Carte Che non può Essere Top Assoluto Ma è almeno Un A È il Personaggio Trattato Male Tibalt 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 È trattato Male Dalla Wizards È È È meraviglioso È Stupendo Tibalt Gli si vuole Troppo Bene Tibalt È Stupendo Basta Hugin Uguale Top Assoluto Dopo Bolas Insieme a Bolas Per me Ci sono tanti Top Assoluti Che vuol dire Che la Wizards Ha fatto un bel Lavoro Con i personaggi In generale Hugin Tranquillamente A livello Cioè per me Stanno insieme Loro due Se Bolas È top Antagonista Hugin È top Spalla Positiva Dell'antagonista Vencer È Una Vencer È Una E Secondo Me Rana Osa E Un'altra Arriva Tra un po' Riarriva In qualche Modo Vivian Mi fa Il nulla Atomico Lo sapete Non è a livello Di scarse E brutto Ma Vivian Mi Mi Suscita Le emozioni Di una Mattonella Del bagno Cioè Vivian Ogni volta Che la vedo In una carta nuova Faccio Oh Vivian Ah nella Lore in questo momento C'è Vivian Oh C'è Vivian Cioè proprio Non me ne frega Niente di Vivian Zero Ciao Devo Il nulla Niente Vraska Vraska E Waifu Mamma mia Vraska È stupenda Sopra Sopra Non sopra Tamio Ma sopra Sarkhan E Ashok Vraska è Peraltro ingiustamente Trattata male Da Jace Trombata E abbandonata Da Jace Vraska Vraska è Top personaggio Top Golgari Top tutto Vren Te ne vai Affanculo Sei scarso e brutto Ti odio Vren Veramente Non mi sa Di nulla Vren Non mi sa Di niente Né come personaggio Cioè è ovvio La carta è sbroccata Ok Però ti odio Cioè non sai di niente Vren Non sai di nulla Personaggio Completamente Trasparente Per il mio cervello Questo non capisco Chi è Cioè Ettolo Tearlist Prince Walker Xernagos Ah Xernagos C C Si ascende Addio A un bell'arco Narrativo Ma Se ne frega Qualcosa Ce ne frega Un cazzo Niente La sfinge Degli dei Che cazzo Se ne frega Scusate Cioè Questi non sono Planeswalker O sono Planeswalker Nella lore Ma non hanno la carta Planeswalker No lo mangio dopo il caffè Questo Vabbè Cioè che roba è È Azzur È Azzur Sì ma perché Chi cazzo se ne frega Questo è Quello del Black Lotus È quello che caga I Black Lotus Ma anche lui Chi se ne frega Cioè È Gart Sì ma chi se ne frega Questo chi è Anche lui È Spadone Giovanni Beh bravo Spadone Giovanni Chi se ne frega Jared Cartalion Esatto Mi fa piacere Chi è questa persona Scusate Questo chi è Chi è È Coso È Oddio Non mi viene il nome È Slobad Ah Slobad Totale Slobad totale Bellissimo Personaggio incredibile E poi Ultimo ragazzi Top assoluto Urza Urza Dopo Chandra Ma prima degli altri Urza ragazzi Dobbiamo parlare Urza e Magic Urza e Magic Cioè per me Magic sono Urza e Bolas Urza e Bolas Sono i Magic Hanno fatto Magic I Planeswalker D&D ragazzi Sono fuori dalla lore Per quello Eh E niente Questa è la mia Thirlist Questa è la mia Thirlist Con Angrat Che svetta Assoluto Una quantità di Waifu E Usbandi Notevoli Ancora un saluto A A Jace E Oko Che sono qua giù E Jace E Oko Sono talmente Cosi Li odio talmente Tanto E non meritano nemmeno Una tier Insieme agli altri Cioè Solo vergogna Solo vergogna